La Tecra pagherà la retribuzione di marzo ai propri dipendenti entro lunedì 9 maggio prossimo. E quanto scaturito al termine dell'incontro che si è svolto stamattina in Prefettura Caltanistetta? La CGL ha ribadito la necessità di azzerare per sempre la sofferenza dei lavoratori e di svincolare il pagamento dello stipendio dal destino dei debiti fuori bilancio. La stessa organizzazione sindacale ha avanzato la proposta al tavolo di erogare la retribuzione ogni 15 giorni così da portare serenità ai lavoratori e alle loro famiglie. All'incontro di oggi era presente l'assessore comunale Fabrizio Morello che ha ribadito la puntualità del comune al pagamento dei canoni mensili e ciò consentirà alla Tecra di erogare la retribuzione. L'incontro di oggi arriva a poche ore dalla diffida presentata da Ignazio Giudice, segretario confederale della CGL, nella quale si chiedeva il pagamento immediato degli stipendi. La diffida era stata recapitata alla stessa Tecra, al sindaco Domenico Mersinese e al Prevetto di Caltanistetta, Maria Teresa Cucinotta. Il giudice denunciava la grave situazione che riguarda i lavoratori inaccettabile, inspiegabile e illegittima. Nonostante le ripetute richieste sollevate dal sindacato in svariate sedi, la Tecra ha più volte affermato che la mancata corresponsione degli stipendi dipenderebbe dal mancato pagamento da parte dell'ente committente di vari servizi cosiddetti aggiuntivi svolti dalla stessa società campana che ne rivendica tutt'oggi il saldo e non ancora regolarmente riconosciuti e contabilizzati dal Comune. La CGL non può accettare che problematiche di qualsiasi genere relativi all'esecuzione, ovvero interpretazione del contratto di appalto, possano ricadere sui lavoratori che hanno svolto e continuano a svolgere regolarmente la propria attività, considerato che qualsiasi circostanza che riguarda i rapporti tra appaltatrice e committente non ha e non deve avere alcun rilievo nell'ambito del rapporto di lavoro tra i dipendenti e la Tecra, non potendo più intugiare, oltre alla luce del perdurante e inaccettabile inadempimento delle norme contrattuali e di legge a tutela dei lavoratori da parte della società che gestisce il servizio, l'organizzazione sindacale aveva diffidato la stessa società a pagare il dovuto. Il tutto entro inoltre una settimana a decorrere da ieri. Intanto, ieri sera, alcuni operai della Tecra si sono legati in aula consigliare durante i lavori della Sise Civica, chiedendo alla Giunta di intervenire affinché la Tecra provveda al pagamento delle aspettanze, considerato che il Comune ha saldato tutte le fatture di sua competenza.